Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano dopo Juventus Verona, la mattina dopo la mattina dopo provato a livello di voce, a livello di stimoli, a livello di cuore, a livello di qualsiasi cosa sono veramente molto provato e prima di andare a ritrattare, a ripercorrere tutta la partita io vi chiedo gentilmente un like, un'iscrizione al canale, stiamo per arrivare a 4000, ci mancano 9 iscritti ragazzi che cacchio vi costa, cioè veramente date le soddisfazioni ogni tanto ai vostri creator poi commentate soltanto a fine video, condividete il contenuto e attivate la campanella mi raccomando per non perdervi aggiornamenti nelle prossime ore e nei prossimi giorni anche perché oggi ci sono partite importanti come domani e quindi andremo anche a commentare tali partite allora, cominciamo da la partita, la partita la Juventus la vince, noi godiamo noi siamo primi, siamo stragasati, ci prendiamo sti tre punti, non troviamo motivazioni di dire ah ma abbiamo giocato male, si non abbiamo fatto una gran partita, abbiamo arrembato più che altro ma dopo il risultato del genere al 97esimo, cosa cazzo ce ne frega parliamo delle cose belle, ecco parliamo delle cose belle, la Juventus ha vinto questa è la volta più bella di tutte, la Juventus è prima, dopo non so quanto tempo è prima, da sola, è vero una partita in più ma ci sono scontri diretti quindi fino a oggi alle 20 che sarà finita la partita tra Inter e Roma, noi siamo primi e poi hanno la seconda chance per ritornare primi anche gli altri di Milano e il Milan stasera contro il Napoli alle 20.45 quindi verso le 23 hanno la possibilità di essere primi anche loro o secondi, secondo di cosa fa l'Inter o terzi quello che però mi infastidisce e non poco ma tanto, 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 tanto è, e ora ve lo dico mi infastidisce una cosa, mi infastidisce come, non solo come, ci sono due cose la prima è che la FIGC nella partita di ieri ha provato in ogni modo di non far arrivare la Juventus prima da sola prima degli scontri diretti della domenica, è un calendario per loro ma donna dice non pensavamo che a questo punto della stagione la Juventus potesse lottare per il primo posto invece siamo lì, anzi ci siamo, siamo primi e allora che succede? Non si poteva far arrivare la Juventus da sola per una notte per carità, per carità, per carità, bisogna sempre farla marcire nella sua pochezza ci hanno provato, ci ha provato l'arbitro, ci hanno provato la Salavar, ci hanno provato in tutti i modi abbiamo visto simulazioni al limite dell'antisportività, la roba più brutta mai vista Faraoni, improponibile, antisportivo che simula dopo aver visto che il gol era lì guarda il gol appena Kenner fa il gol allora si butta giù cioè roba veramente, questi giocatori andrebbero radiati altro che chi scommette le schedine, chi è finto in questo modo andrebbe radiato i calci d'angoli, due calci d'angoli nettissimi delle deviazioni, palle dritte che cambiano direzione improvvisamente non vengono dati i calci d'angoli un fuorigioco per un pixel aggiunto dal computer perché questo è stato perché è una scarpa, comunque il pezzettino lì non è una scarpa regolare e non credo abbiano le scarpe con le alette laterali, i giocatori per volare quindi hanno provato in tutti i modi, anche nella maniera più meschina a portarci via questi tre punti non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta e questa è la prima cosa che mi dà molto fastidio ma quella che mi dà più fastidio è che ancora oggi dopo tutte le merdate che ci stanno facendo non abbiamo una proprietà presente che alza la voce e che dice è l'ora di finirla è l'ora di finirla, no, loro si fidano della giustizia, si fidano del buon Elkan con il suo burattino Ferrero lì che non è quello della Kinder oh, ma la facciamo finita veramente di essere così meschini perché Elkan era quello che poi aveva detto, oh, meno male, tutti a osannare Elkan finalmente ha messo la parola a fine con i bilanci come ha riportato il mio caro amico Patrick Boyce in un post sul suo canale avevamo chiuso con i bilanci, no, con i falsi in bilancio e no, ce n'è un'altra e dovremo vedere cosa succederà e questa volta farà ancora più male perché se dovessero fare qualche penalizzazione io non credo, spero di no, ma non si sa mai, dovessero fare un'altra penalizzazione quando siamo primi, come la mettete? ancora a inneggiare Elkan? ancora a dire abbiamo una società presente? no, amici miei, no, non si può non si può dire una cosa del genere non si può assolutamente c'è stato l'ennesimo scandalo ieri a Torino una partita, non lo so, un rigore non dato due gol annullati per il nulla due calci d'angolo inondati tante altre cose molto più piccole a me ti mi sono anche sfuggite durante l'euforia della partita o l'incazzatura perché non riuscivamo a portare a casa i tre punti questo però non conta niente perché un tifoso quando è a casa a vedere la partita deve solo guardare, deve solo tifare non può commentare non può chiedere qualcosa di più alla propria società non può chiedere rispetto per una squadra che viene devastata ogni anno e nessuno dice niente siamo lì, anzi siamo noi, ci mettiamo a 90 e diciamo entrate entrate, uno per volta però entrate e no, questo non è più possibile e non è possibile davvero tollerare uno schifo del genere e questo schifo, come vi ripeto, arriva dalla FIGC ma anche da questo soggetto corrotto squallido che fa parte di questo sistema corrotto che si chiama John Elkan e io continuerò sempre a denunciare questa cosa qui indipendentemente se questa cosa mi porterà molto molta dissidia tra voi utenti perché molti di voi sotto i miei video lo vedo ah Elkan è bravo Elkan di qua, Elkan di là e no, ora non sto parlando di Allegri chiaro? è Elkan il problema è Elkan perché mette 200 milioni allora basta oh che bello, hai visto? oh tutto a parlare hai visto? eh Elkan i soldi i soldi sì sì, va bene voi accontentatevi di quei 200 milioni poi quando si tolgono 10 punti e da primo finisci quinto un'altra volta vediamo che succede vediamo che succede queste sono le cose che contano ma come dicono in tanti noi siamo tifosi anzi io neanche tifosi perché non vado neanche allo stadio quindi ho che diritto di parlare io devo stare zitto io non vado neanche allo stadio quindi secondo tanti io dovrei proprio stare zitto commentare i fatti ecco di campo non mi posso neanche avvicinare a commentare un fatto interno all'SPA Juventus no, non posso dobbiamo rimanere tutti automi tutti lobotomizzati e lasciar fare le proprie forcate a un proprietario perché non è un presidente è un proprietario della Juventus di fare quel che cacchio gli pare senza se e senza ma che pur di arrivare ai suoi luridi scopi di guadagno mette la squadra Juventus dietro a tutto e a tutti e permette ogni volta di far sì che si faccia soprusi sulla Juventus sia in quanto a bilanci sia in quanto a risultati in campo avvenimenti episodi arbitrali e io mi sono vi dirò la verità mi sono rotto i coglioni di commentare queste cose io vorrei commentare una squadra che gioca se gioca male perde se gioca bene vince basta io vorrei fare il tifoso come dite voi che deve stare zitto e commentare il calcio e basta ma non mi permettono di farlo perché in questa società vogliono il male della Juventus e se ancora di voi ancora qualcuno di voi scusate ancora di voi ancora qualcuno di voi non l'ha capito venga da me e gli faccio un bel escursus di tutto quello che ha fatto il buon Elkan dal 2006 ad oggi e vediamo quante cose di buono ha fatto forse le poche cose di buono le ha fatte l'altro cugino Agnelli che nelle sue tantissime cazzate lui l'amore per la Juventus ce l'ha sempre avuto cosa cosa che John non ha mai avuto non gliene ha mai fregato niente né della Juventus né dello sport in generale avete visto in Ferrari vi pare vada meglio no e non abbiamo le risorse il bello è che le risorse le abbiamo ma purtroppo quando c'è da arrivare a scopi più grandi c'è sempre l'agnello sacrificale in questo caso per Elkan l'agnello sacrificale è la Juventus dobbiamo sacrificare la Juventus per arrivare ai nostri sudici scopi e come funziona eh sì eh sì ragazzi io non mi fermo più ormai non mi fermo più in questa battaglia quindi se volete supportarmi sapete come fare partecipate alle live iscrivetevi al canale lasciate like commentate i video se non volete supportarmi io lo dico sempre per me questo è un paese libero questo il mio canale l'Italia non è un paese libero ce lo vogliono far credere il mio canale è un posto libero quindi potete benissimo decidere di rispondermi in maniera diversa decidere di disiscrivervi al canale decidere se continuare con noi con me questa questa avventura ma sappiate che io dirò sempre quello che penso e dopo lo schifo di ieri mi sarei aspettato almeno una parolina almeno una parolina vediamo se nelle prossime ore cambierà qualcosa e chiederò io scusa forse no ha una proprietà inesistente ragazzi sempre fino alla fine ci vediamo non lo so credo stasera in live vediamo ora cosa riusciamo a fare mi raccomando se volete sosteneteci altrimenti quella è la porta ciao